Oggi abbiamo incontrato i sindacati dei poligrafici della Gazzetta assieme al dottore Angelucci che ha presentato un'offerta vincolante di acquisto della Gazzetta. L'incontro ha particolare rilievo perché l'imprenditore si è impegnato a salvaguardare i livelli occupazionali dei giornalisti e dei poligrafici alla stessa maniera. Ovviamente sarà necessaria una fase abbastanza lunga di risanamento dell'azienda che in questo momento ha numerosi problemi. Naturalmente il processo può partire a condizione che i giudici di Catania decidano di cedere l'azienda al gruppo che ha presentato l'offerta vincolante e quindi ancora non sappiamo quale sarà la soluzione adottata dai magistrati di Catania.